Uno di voi è arrivato a un mio video, Sette Piani, ed è rimasto colpito da questo video e l'ha commentato, solo che non trovo più il commento. Mi diceva comunque che era curioso di conoscere rispetto a questo racconto che lui sentiva molto kafkiano, di conoscere una volta che ha scoperto che facevo una volta il medico, insomma sono in pensione, non lo faccio più, voleva sapere qual era l'interpretazione di un medico di questo racconto e io così gli avevo risposto che avrei articolato meglio una risposta, insomma era difficile dargli la risposta ad un commento e quindi ne faccio un video. Per prima cosa non trovo che questo racconto sia così kafkiano e da questo punto leggo nell'introduzione ai 60 racconti qualcosa che diceva Buzzati stesso. I giudizi comunque che per lo più indispettivano erano quelli che lo consideravano una sorta di emulo di kafka. In un suo Elzevilo del 31 marzo 1965 egli scrive da quando ho cominciato a scrivere Kafka è stata la mia croce. Non c'è stato mio racconto, romanzo, commedia dove qualcuno non ravvisasse somiglianze, deviazioni, imitazioni o addirittura sfrontati plagi a spese dello scrittore boemo. Alcuni critici denunciavano colpevoli analogie anche quando spedivo un telegramma o compilavo un modulo vanoni. Perché non lo trovo kafkiano? Intanto, prima cosa secondo me da sfatare, cosa c'è in Kafka che rende Kafka kafkiano? Questa cosa è un po' dell'assurdo, no? Prima di tutto, secondo me, una cosa fondamentale è questa, che si ritrova soprattutto nelle metamorfosi e in un altro racconto che ho letto recentemente che si chiamava Il Ritorno. Prendiamo questo ultimo. Nel Ritorno c'è un personaggio che parte normalmente, va a fare un viaggio, sta via, ha una moglie, ha una villa, ha del personale, lascia la moglie, poi ritorna dopo un certo tempo. E quando ritorna lui non riconosce più la moglie. La moglie aveva altri occhi, aveva altri capelli, insomma, era diversa, era più bassa, più tonda, da come se la ricordava lui, da come l'aveva lasciata. E quindi lui rimane sconcertato di fronte a questa nuova figura, che è la moglie, che invece si presenta a lui come la moglie e nulla è cambiato per lei. E addirittura i servi, il maggiordomo, insomma, tutto il personale della villa è convinto e dice che sia sua moglie. Quindi lui è rimasto lo stesso, ha fatto un viaggio e quando ritorna è sconcertato tra questa figura, che dovrebbe essere la moglie, e che tutto intorno dice che è sua moglie, ma che lui non la vede più come la moglie, no? Quindi c'è questa realtà che è cambiata, ma che è la stessa. E quindi a un certo punto lui non sa più se attribuire a se stesso, se sia una sua incapacità di vedere quella realtà come quella che aveva lasciato. Quindi se è lui che è andato un po' fuori, oppure se sia la realtà che è cambiata intorno, ma ciò che lo rende perplesso è il fatto che tutto quello che doveva confermare questo cambiamento, invece dice che nulla è cambiato, no? Allora c'è questa distanza tra l'idea, tra tutto quello che si pensa di ritrovare, tra quello che noi sappiamo essere e quello che ci mostra di essere, ma che non è più per noi. E così l'assurdo in Kafka, nelle metamorfose per esempio, è il fatto che lui si sveglia diverso fisicamente, no? Si alza, è un animale immondo quando si risveglia. Però non è dentro di sé un animale immondo. Dentro di sé, all'interno di questa scorza, nella sua mente, c'è lui come era prima. Però tutti gli altri lo vedono in un altro modo. Quindi c'è questa dissonanza, questa discordanza tra quello che lui si sente, però all'interno di una corazza che non è più quella sua e che vorrebbe in qualche modo non avere, che cerca di negare all'inizio e come gli altri lo percepiscono, no? Da questa dissociazione tra una realtà che in qualche modo non è cambiata nella sua essenza. Nel senso che se uno si sveglia come uno scarafaggio, dovrebbe anche essere uno scarafaggio, no? Cioè dovrebbe anche avere il modo di sentire di uno scarafaggio. Invece lui, diciamo scarafaggio, tra virgolette, invece lui è uno scarafaggio, è un'enorme bestia immonda, ma una bestia che ancora ragiona, sente e cerca di vivere come se fosse un uomo. Questo rende un po' il senso del kafkiano, no? Di questo assurdo. E quindi Kafka è anche questo. Mentre per Buzzati, in questo racconto di Buzzati, sette piani, in realtà, ci sono degli avvenimenti che fanno sì che quest'uomo precipiti, insomma, diciamo, evolva verso la morte, no? Dalla salute evolve verso la morte. Scende questi sette piani organizzati in modo che ogni piano sia a un livello di gravità maggiore. Ma non c'è niente che lo stacchi dalla realtà. Cioè la realtà è la realtà e lui rimane quello che è. Non è kafkiano, quindi, secondo me. Cioè c'è una realtà che evolve secondo schemi che non sono più strettamente quelli che noi vorremmo fossero quelli umani. di un'umanità che sente, che partecipa. C'è un distacco dell'individuo da una forma organizzata di società che è quella, diciamo, dell'ospedale in cui il protagonista si ricovera e c'è questa incommunicabilità. Oppure c'è questa comunicazione in qualche modo tecnica, artificiale, che è quella che, personale della clinica, dove lui va per farsi curare, gli rimanda. Invece ha le sue esigenze, la sua volontà di presentarsi come individuo, come un individuo che aspira a essere sano. Per me è anche una metafora. Ma la prima metafora, ce ne sono tante, insomma, è un racconto molto ricco di interpretazione, la prima metafora è quella della vita, insomma, no? La vita. Per il fatto stesso che il tempo trascorre, e spesso non, poi in altri racconti, insomma, bussati, no? La tematica di bussati è quella che noi, in questo tempo, non lo sappiamo utilizzare. Noi asperiamo sempre a qualcos'altro e finché fantastichiamo, immaginiamo e aspiriamo a qualcos'altro o di lontano, o di futuro, o di prossimo, di qualcosa che deve accadere. La nostra vita trascorre senza che accada nulla. Quindi l'incapacità di saper godere del momento della vita, di non riuscire a entrare nel meccanismo della vita che richiede che la vita sia vissuta nel momento in cui si vive, che si trova la bellezza lì. Invece noi la proiettiamo sempre in un'antrove, no? In un nemico che verrà, ma che non verrà mai, che ci dovrà dare la gloria, eccetera, eccetera. Invece moriamo nella solitudine, no? Perché nel momento in cui sogniamo, aspiriamo a qualcosa d'altro, nei rapporti umani, in tutto il resto, nel nostro futuro, in realtà tutto quello che abbiamo davanti ci sfugge, non riusciamo a dargli concretezza, non riusciamo a renderlo significante, importante per noi. E' questo sfuggire. E' allora una metafora della vita, dicevo, perché in realtà noi nasciamo e dal momento in cui nasciamo siamo già malati in questo senso, perché siamo già destinati alla morte. Quindi nasciamo in un piano che è alto, al settimo piano, dove ci sono i sani, ma c'è un processo che possiamo anche vedere, tra virgolette, com'è patologico, ma che è invece estremamente fisiologico e che ci rende tutti uguali, ed è quello che a un certo punto moriamo, cioè che la nostra vita procede inesorabilmente da un settimo piano fino al primo piano, dove ci sono coloro che muoiono. e non ci si scappa. I tempi possono essere diversi uno dall'altro, ma alla fine è quella. Quindi, insomma, possiamo anche pensare che la vita sia di per sé stessa una malattia che ci fa scendere lentamente, magari tra la consolazione di chi c'è vicino, che ci tranquillizza, ci dice, no, intanto, insomma, anche se gli anni aumentano, non c'è niente, e, figuriamoci, e invece, eventualmente, il nostro corpo cambia, diventa peggiore, si ammala. Sanectus ipse, morbus, dicevano gli antichi, finché non si muore. Quindi, soltanto il tempo che passa fa un'azione simile a quello che succede al nostro protagonista, insomma, no, ci fa scendere inesorabilmente, magari tra la consolazione di chi si è vicino, come diceva Leopardi, no, gli prende consolare dell'essere nato, però, inevitabilmente, si scende, si scende fino a questo ultimo piano. Quindi, già, di per sé stessa, è una metafora della vita. Poi, la nostra vita, e sempre di più questo succede nella modernità, viene anche medicalizzata. E allora, il termine salute, il termine essere sani diventa diventa un termine molto relativo. Insomma, cosa vuol dire essere sani, stare bene? Se io sento un minimo disturbo, se io mi sento un attimo diverso, com'è la percezione, l'idea, anche l'immagine di salute che abbiamo noi, del nostro corpo, della nostra psiche, no? Basta poco per non essere più sani. Il mondo dei sani dovrebbe essere il mondo di coloro che vivono una vita intensa, che vivono una vita piena. Nel momento in cui tu ti ammali di qualcosa, per il fatto stesso di essere malato, di avere qualcosa, già ti collochi in una categoria di diversi. chi ti è malato, chi non è del tutto normale, del tutto efficiente, già viene visto al mondo dei sani come qualcosa di diverso, ovviamente di peggiore, insomma, no? Rispetto a quello che è il mondo dei sani. Meno felice, meno allegro. Nel settimo piano tutto è molto fru, tutto è molto allegro, no? I rapporti, insomma, sono quasi sani, insomma, praticamente sani. Ma basta poco per entrare nel mondo dei malati e sempre di più un mondo che medicalizza la salute sempre di più ti fa sentire malato anche quando in realtà molto malato magari non ci sei. Basta che senti appena, che so io, che il battito del cuore ha una leggera imperfezione. Basta che ti senti un dolore da qualche parte già entri nel mondo dei malati. E quindi è molto facile entrare al settimo piano di questa costruzione. Scatta anche la nostra fiducia nei confronti della medicina, del sistema, no? Per cui, sì, magari siamo malati ma abbiamo un disturbo molto lieve, insomma, è un attimo curarlo, no? Un attimo ci affidiamo alle cure di quelli che ci promettono la salute. Quando guardiamo poi quelli che stanno male da questo palazzo, insomma, il protagonista corte guarda quelli che stanno nei piani più bassi e prova compassione per loro, no? Sa, no? Sa che quando si sta sui piani più bassi si sta per morire, ma pensa sempre perché lui è diverso da quelli, no? Perché lui è malato molto poco, insomma, appena un lievissimo disturbo. E invece chi ha provato il sistema sanitario spesso si accorse che magari quando questo piccolo disturbo si vuole indagare, diventa preoccupante per chi lo vive, insomma, no? Quando si va in ansia per un piccolo disturbo e si entra in questo sistema percepiamo che questa malattia o ci fanno capire che questo nostro malessere può trasformarsi in qualcosa di sempre, ci sta trasformando in qualcosa di sempre più grave. A volte è la medicina stessa che contribuisce a farlo aggravare invece che a guarirlo. E quindi si rischia di passare nel gradino più basso. Come avviene questo passaggio? E qui diventa importante l'organizzazione, insomma, no? È un discorso molto tecnico. Come dire, il mondo della tecnica che decide su come sono organizzate poi le strutture, gli ospedali, su come funziona il meccanismo in generale è essere un mondo che sia il più possibile funzionare chi lo gestisce, no? Quindi tende a separare, quindi tende a suddividere in categorie anche i malati. E qui il discorso dell'organizzazione in piani, no? Questa progressione per cui dal piano dei quasi sani si passa un po' alla volta si scende al piano dei moribondi dove si muore. Perché è più funzionale come ce lo fa capire anche indirettamente il racconto è più funzionale al modo di organizzarsi e quindi di lavorare di chi opera in questo settore. Allora ci possiamo vedere un po' le varie specializzazioni, no? Che cominciano nel momento in cui ti specializzi in cui cominci a lavorare magari apparentemente meglio ma a dedicarsi a un singolo organo magari a una singola parte di un singolo organo tutta la tua spezzetti quello che è l'unità dell'essere umano, no? Dividi il corpo dalla mente dallo spirito e poi del corpo ne prendi una frazione magari sempre più piccola in cui sei magari più bravo hai più conoscenze ma sempre più perdi di vista l'integrità l'insieme dell'individuo, no? E in questo modo poi si perde anche la possibilità di comunicare, no? la comunicazione diventa sempre meno meno efficace ma l'atto si sente sempre più escluso fa sempre più fatica a dire quello che sente sempre più il medico guarda le lastre o ascolta quando va bene il battito del cuore o misura la pressione ma sempre di più è un atto tecnico più che non un processo di di ascolto e di partecipazione sempre meno il tempo di chi ci lavora per per dedicarsi a vedere l'individuo nel suo insieme nel suo complesso e questo è un po' l'organizzazione di un sistema fatto in rapporto all'esigenza della tecnica poi degli strumenti che ci sono e della specializzazione degli operatori stessi e quindi come dire il fatto che esistano reparti per esempio esistono reparti diversi insomma in ginecologia si va a partorire un reparto allegro pieno di fiori eccetera eccetera no ma chi va in rianimazione per esempio spesso si sa che ha poche speranze che rischia di venire fuori lì le cose sono già più tristi non si entra se non attraverso come dire mettendosi mascherina zoccoli camice e tutta una serie di accorgimenti insomma no ci sono ospedali no come reparti oncologici in cui si sa chi c'è dentro e quindi insomma mentre magari noi la vediamo negli ospedali distribuita in maniera orizzontale secondo padiglioni così ma adesso magari non più come dire c'è comunque una differenziazione no una stratificazione di livelli a secondo della gravità no quindi si sa insomma chi va in ospedale per una piccola per un piccolo disturbo insomma per un piccolo intervento un tunnel carpale alla mano magari quando vede il suo vicino di letto che invece è in coma che so io spesso lo vede con compassione pensa che quello che ha il suo vicino di letto che sta male non capiterà mai a lui insomma spesso si vede in ospedale queste cose qua che quando il paziente guarda spesso il suo vicino di letto magari in condizioni peggiori e sa che questo vicino di letto ma pur essendogli vicino pur avendo anche lui magari un disturbo analogo pensa che non succederà a lui quello che succede al suo vicino di letto e quindi vede il suo vicino di letto con una certa compassione ma anche con un certo distacco si pensa sempre che noi guariamo e magari vediamo e capiamo che gli altri invece stanno male magari stanno per morire ce lo rappresentiamo negli altri ma per noi spesso le cose non cambiano e poi c'è un problema di comunicazione all'interno di un sistema tecnico tecnologico la comunicazione spesso è mediata come vediamo nel racconto di Bucciati cioè c'è una staff che è quello dei medici dei primari che so io dei luminali e poi in mezzo ci sono infermieri e in basso ci sono ovviamente i pazienti spesso la comunicazione non si svolge tra il medico e il paziente ma viene delegata soprattutto quando bisogna dire delle cose che non sono piacevoli viene delegata agli infermieri gli infermieri sono qualcosa di mezzo in cui si scarica sia l'ansia del medico che l'ansia del paziente sono loro spesso che devono dare le notizie che devono far digerire un po' la pillola soprattutto quando la pillola è difficile da digerire da parte del paziente e qual è in questo caso la pillola difficile da digerire? è il fatto che questo paziente bisogna convincerlo a scendere di un piano più basso dove si sa che nel piano più basso ci sono quelli che stanno pezzo e quindi indirettamente gli sta il messaggio che è peggiorato che si avvicina di più all'ultimo piano bisogna dirglielo in maniera come dire in maniera che questo non sembri un peggioramento dagli sempre l'illusione che si scende in un piano più basso ma in realtà è soltanto per motivi organizzativi è soltanto una cosa provvisoria non gli si dice le cose veramente come stanno perché 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 in realtà ormai si è trovato questo modo di comunicazione perché così come come siamo forse anche effettivamente è difficile dare dare un messaggio di verità in questo senso al malato perché il malato spesso non lo vuole anche sapere spesso non sempre e quindi spesso si affida questo messaggio all'infermiere poi magari una volta che il malato allora poi il medico che ha già il terreno pronto parla lo convince che era effettivamente necessario fare quello perché insomma sempre indorandogli questa questa pillola trovando sempre una una scusa mai dicendo effettivamente la verità c'è anche da dire che ci sono delle posizioni diverse su cui è difficile giudicare per esempio il malato quando ha una malattia grave quando sta per morire o quando ha una malattia che lo può putare a morte è giusto insomma è sempre efficace non tanto giusto perché sarebbe giusto dire sempre la verità ma è sempre efficace è sempre conveniente dirgli la realtà nuda e cruda o non è per esempio un lavarsi nelle mani anche da parte del medico so che in America c'è una posizione i medici dicono anche per un fatto di assicurazione di togliersi la responsabilità i medici dicono sempre ti restano tanti giorni di vita tanti mesi di vita no è sempre giusto fare questo soprattutto in certe malattie insomma oppure può essere più conveniente dire sì ammettere che la patologia è grave ma lasciare sempre una speranza non dire mai guarda che ti restano tre mesi di vita o due mesi di vita cioè dare un termine dire sì le cose potrebbero andare anche male però insomma sì è un tumore ma è un tumore benigno insomma è un qualcosa sul quale si può fare ancora qualcosa facciamo qualcosa non è detto che le cose siano così così brutte insomma potresti risalire ancora di un piano due tre di trovarti ancora tra tra i sani magari non proprio al settimo ma magari al sesto al quinto è più giusto fare questo o è più giusto essere crudi diretti e dire guarda hai un tumore e ti restano tre mesi di vita addio poi magari non è vero perché sbagliano anche i medici e qua le posizioni sono sono diverse insomma ci sono pazienti che vogliono che hanno bisogno di sapere insomma che vanno in crisi se non sanno la verità poi bisogna vedere come la gestiscono ma insomma comunque stanno pezzo a non saperla la verità altri che poi magari vorrebbero saperla ma in realtà come dire razionalmente vorrebbero saperla ma dentro di loro in realtà non la vogliono sapere e si lasciano ingannare se possiamo parlare di inganno in questo caso insomma l'inganno a fin di bene insomma e si lasciano ingannare e quindi non come dire non passano il loro tempo a pensare solo che stanno morendo ma passano il loro tempo a pensare che potrebbero guarire che hanno una speranza che il loro male non è poi così grave che la morte non è lì a due mesi e quindi non stanno lì a contare ogni giorno e poi magari si muore ma la morte avviene a meno quella che è stata la mia esperienza insomma no la morte avviene senza che se ne accolge spesso si passa o si trapassa o si va in uno stato in cui poi si va in uno stato di coma in cui non si si rende più conto bene di quello che succede senza accorgersene quindi insomma molte volte si rende più leggero il passaggio non dicendo completamente la verità neanche negandola ma come dire cercando di indorare una pillola una pillola così quindi su questo ci sono atteggiamenti si può sentire anche il parere anche vostro ma in pratica come direi in pratica forse nella gran parte dei casi quello che ho visto io insomma lavorando in ospedale con patologie importanti è quello che spesso molte volte non si vuole sapere insomma è meglio dare un messaggio meno così meno categorico lasciare aperta sempre una speranza dire ma dire sempre come dire come se la cosa fosse in realtà lasciarsi un margine alla possibilità anche perché in realtà questa speranza poi sentice l'hanno perché quando tu gli dai un verdetto così grave come morirai fra spesso poi vanno lo stesso in cerca del guaritore no? c'è sempre questa speranza che qualcosa possa succedere tramite un ma qualcosa insomma no tramite una specie di miracolo che magari qualcuno è in grado di farlo e che invece la medicina ufficiale chissà perché glielo nega ha le mani legate non è capace insomma no si va in cerca comunque del miracolo quindi vuol dire che questa speranza che che questa decisione così categorica tu morirai insomma no non non corrisponda non ci sia quindi insomma corte bene o male ha questa comunicazione viene indotto con vari pretesti spesso da personale inferneristico e non medico e poi il medico gli conferma gli trova sempre il pretesto la ragione perché è curato meglio perché lì ma in realtà vedi che questo processo scende scala e alla fine si troverà anche lui morto no si troverà al primo piano e lì insomma il racconto si conclude perché perché il corte non ha più vita davanti uno scendere che è la metafora della vita e poi una salute che non è mai una salute un mondo della tecnica che si impossessa della tua vita della tua salute per cui ti fa sentire malato anche quando non lo sei malato magari leggermente ma poi un po' alla volta ti fa sentire sempre più malato quando deleghi e ti affidi alla medicina spesso non ritorni più al settimo piano sei sempre in un piano intermedio magari con prospettive più di scendere che di risalire insomma per certi aspetti io penso che sia meglio che sia meglio stare senza medicalizzarsi il più possibile uno penso che una resistenza ai piccoli disturbi a queste cose qua e sopportare le piccole cose che non ti facciano entrare anche al settimo piano di quell'edificio sia preferibile quindi magari arrangiarsi insomma sopportare i piccoli disturbi eccetera poi diventa a volte difficile invece capire quali sono i piccoli disturbi che possono essere il sintomo di qualcosa di più rispetto ai piccoli disturbi che si modificano da solo ma spesso ricorriamo troppo troppo leggermente troppo facilmente a quel settimo piano da dove poi rischia di cominciare una discesa così ma questa è una mia posizione personale insomma forse è meglio non non misurarsi tutti i giorni la pressione con l'ansia che perché facilmente basta che la pressione vada su di dieci non ti cambia la vita magari non c'è niente ma tu vai già in ansia e cominci già a farti medicalizzare e lì spesso comincia un processo perché ormai il sistema è fatto così insomma è molto facile farsi in globale da questo piano medico da questo insomma chi vuole capire poi come funziona come arricchire insomma questa questa visione di com'è il sistema medico insomma no potrebbe lezzarsi Vanillitz Nemesis Medica e lì si rende conto insomma anche se è un libro scritto 50 anni fa ma come come funziona come funziona la la medicina insomma la medicina come come sistema spesso un libro che in qualche modo mi richiama questo racconto a cui mi fa pensare è la montagna incantata certo è un'altra cosa insomma di Thomas ma è un'altra cosa ma anche lì il protagonista va per trovare il cusino in un sanatorio un bel sanatorio di montagna in Svizzera e anche lì va come persona sana ma in realtà si accorge che si accorge che anche lui non sta poi veramente bene anche lui capisce che il non stare veramente bene un po' di febbricola eccetera eccetera poi insomma si illude che queste cose magari la guarisce che so io in 15 giorni no? in 20 giorni e invece resta lì sempre di più sempre di più intanto finché è lì è una bella società insomma ci sono tante persone interessanti si fanno tanti discorsi interessanti tante cose che riguardano la cultura il mondo dell'epoca ripartirà da quel luogo ma ripartirà per andare poi a fare la guerra una grande guerra anche lui quindi per come dire non tanto per la sua malattia ma per buttarsi poi in una malattia sociale più più grande e quindi la guerra e la morte possibile in guerra ma questa cosa vai come sano vai soltanto per trovare il tuo cugino e invece ti accorgi anche tu che sei malato basta una piccola febbricola così poi i tempi di questa malattia di questo stare in questo posto affrontare le cure eccetera eccetera insomma scendere comunque un gradino anche se lì l'ambiente era decisamente più più interessante rispetto a quello che trova il corte in questo in questa specie di palazzo di sette piani un saluto un saluto